sono stato tra i primi che ha iniziato ad occuparsi anche di contenzioso, oggi ha raggiunto delle cifre quasi da capogiro, vediamo se riesco a condividere lo schermo per le slides, ha numeri quasi da capogiro, lo vedete lo schermo? Sì, lo vediamo, grazie Igor. E perché numeri da capogiro? Perché sul sito dell'associazione Trust in Italia, che sempre ringrazierò per questa capacità di riuscire a raccogliere tutto lo scibile italiano in materia di Trust, sul motore di ricerca dell'associazione possiamo trovare che negli ultimi trent'anni sono intervenuti ben 1427 documenti, di cui 1365 previmenti giudiziali, splittati sui trent'anni è uno alla settimana, uno alla settimana che però non è vero perché come vedremo dopo il primo decennio il Trust è passato abbastanza, non dico in sordina, ma non ha dato luogo a tantissimo contenzioso, contenzioso che poi ha avuto una crescita esponenziale negli ultimi vent'anni. Di tutti questi documenti, 16 sono in ambito amministrativo, 727 in ambito civile, 86 in ambito penale, 536 in ambito tributario. Come vedremo non ci sono tutti, non sono proprio tutti, tutti, tutti. E perché? Perché molti sono meno facili da reperire, molti dei primi tempi c'era meno ricerca e meno voglia di evidenziare, alcuni ambiti sono particolarmente spinosi e quindi come in ambito penale diciamo che quello che è passato all'onore dei posteri sono quelli meno scabrosi. Iniziamo da quelli, il contenzioso tributario, il contenzioso tributario è quello che ha dato davvero tanta, 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 tanta materia. Perché? Perché vediamo che nel corso di questi trent'anni si sono avvicendate 21 circolari, pareri interpelli, il sito della dell'Associazione di Trust in Italia non le ha mai dato tutta questa grande importanza, quindi mancano ne mancano tanti, ce ne sono 33, 173 commissioni tributarie di primo grado provinciali, 210 regionali, 154 di Cassazione tributaria. Già vedete da questi numeri che ne mancano perché 210 commissioni tributarie regionali significa che poco 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 ne mancano una quarantina di provinciali e perché? Perché sono di meno facile reperibilità. Che cosa hanno riguardato tutto il contenzioso? Come vedete dai dati fino al 2002, quindi il primo decennio non c'è stato grande contenzioso come molto probabilmente parlerà il dottor Tramontano e perché in quegli anni, i primi anni era di che si parla. Poi il primo quinquennio, il secondo quinquennio combinazione a quello dove c'è stata l'abolizione dell'imposta, donazione e successioni ed ecco che è andata a cavallo tra il secondo e il terzo quinquennio. Il terzo quinquennio ecco che è iniziato un po' contenzioso, contenzioso che lasciamo perdere i dati più basilari che ne so qualcosina che riguarda l'IVA ma più in tempi più recenti, qualcosina che riguarda le imposte dirette ma anche questa in tempi più recenti, il grosso contenzioso nasce imposta di donazione e successione, ipotecari e catastali, imposta di registro. Imposta di registro è il periodo, un po' di contenzioso nasce nel periodo proprio di interregno, imposta di donazione sì o no, perché evidentemente l'Agenzia delle Entrate ha tentato in qualche modo di andare a recuperare ad imposizione soprattutto quegli atti evidenti, quindi i trasferimenti immobiliari. Ecco che il grosso del contenzioso, come vedete in imposta di registro è un filone che è durato per un po' di tempo, questa linea che si alza e poi si abbassa è portata dai vari gradi di giudizio perché comunque qualcuno in queste contenziosi è finito anche in Cassazione, quindi ecco che è nato come primo grado, c'è stata l'evoluzione secondo in regionale, un po' di Cassazioni per poi andare a scemare ai giorni nostri, non si parla praticamente più di registro in ambito di trust. Si parla di imposta di donazione e successione sì tanto, sì tanto e di conseguenza perché? Perché la maggior parte di tutti questi atti si ribadisce è finito in contenzioso, sono atti formali e quindi atti che hanno ad oggetto trasferimenti immobiliari, ecco che di pari passo vanno anche l'ipotecare catastali. E' interessante vedere l'evoluzione però anche del contenzioso, come vedete il primo decennio praticamente poca 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 roba, il secondo decennio dal 2002 al 2012 il contenzioso inizia ad aumentare ma soprattutto diciamo alla fine del secondo decennio, ecco che in funzione anche se notate delle circolari, perché la maggior parte delle circolari interpretative che sono intervenute, hanno originato più contenzioso di quanto non ce ne fosse prima in assenza di circolari interpretative, perché l'agenzia delle entrate pur dandole atto che in tanti anni ha dovuto qualche modo prendere posizioni, diamole anche atto che ha preso delle posizioni davvero spesso e volentieri, non dico strampalate ma un pochettino tirate per i capelli e sempre sempre come notate la contenzioso, lo vedremo meglio nelle prossime slides, fermamente contestate non solo della dottrina ma anche della giurisprudenza. Ecco che all'aumentare del proliferare delle circolari è aumentato il contenzioso in primo grado, qualcosa è già finito in secondo grado, l'ultimo decennio è il più interessante perché come vedete dalla linea arancione certamente sono aumentate di gran numero le commissioni provinciali, certamente sono aumentate di gran numero le regionali, ecco che nell'ultimo coinquennio le regionali sono davvero tante, le provinciali sono in numero assoluto di meno o comunque sempre un pelo di meno, le cassazioni sono devastanti perché nell'ultimo quinquennio sono intervenute su un totale oggi di 154 sentenze di cassazione, come vedete le 139 sono dell'ultimo quinquennio, lasciamo perdere materialmente gli ultimi due anni dove c'è stato proprio un... uscivano a pacchi, uscivano a pacchi in 15-20, 25 sentenze, tutte copie in colla, con diversi copie in colla in funzione della composizione della commissione, però certo è che 139 sentenze di cassazione in 5 anni non sono poche. Questo grafico è più interessante che permette, ripeto, di utilizzare il motore di ricerca dell'associazione dove c'è anche una funzione che ti va a evidenziare tutte le commissioni e tutte le decisioni in materia tributaria se hanno dato ragione al contribuente o se hanno dato ragione all'agenzia. Ed ecco che il grafico blu sono il totale, come vedete le provinciali, come stavamo dicendo prima, nell'ultimo quinquennio si sono un po' acquietate, il che significa non perché l'agenzia delle entrate si è acquietata, ancora oggi siamo in funzione, in una situazione dove c'è sta benedetta bozza di circolare che era in pubblica consultazione fino al 30 di settembre e non se ne sa più nulla, circolare bozza, pur in bozza con la quale l'agenzia delle entrate ha preso una posizione decisamente in linea con queste 150 sentenze di cassazione, circolare che ancora oggi alcuni uffici iniziano ad applicare, altri estremamente no. Io prossima settimana devo fare un atto qua a Torino e c'è un notaio terrorizzato perché mi dice ancora oggi l'ufficio del registro ti chiede l'imposta di donazione a successione tutta, tutta subito, tutta da pagare adesso, l'ipotecare catastale e così via. Quindi viviamo ancora nel terrore nonostante ci siano 154 sentenze di cassazione. Vedete come il contenzioso tributario è andato scemando in primo grado, comunque pura scemando vedete come la maggior parte delle pronunce sono favorevoli al contribuente, quindi hanno dato torto all'agenzia, di quelle che hanno dato ragione all'agenzia, ce n'è qualcuna praticamente come vedete anche dai picchi del filone di quelle scellerate, io dico, tre ordinanze della corte di cassazione, Cicala, che è l'unico che si è inventato il diritto prima di andare in pensione e ce ne sono volute altre 150 successive per dire ma perché e per dire totalmente il contrario. Guardate le regionali, le regionali si sono assestate, ma perché si sono assestate anche tanto a favore dell'agenzia? Perché comunque in quest'ultimo quinquennio le regionali non hanno solo più a che fare con l'imposto di donazione e successione ma anche aspetti peculiari e particolari, vuoi l'Imu, vuoi l'Atari, vuoi altre situazioni dove anche qua di nuovo una scelerata, io continuo a dire scelerata, la sentenza di Cassazione perché Cassazione quando dice le cose buone e finalmente c'è Cassazione, quando poi Cassazione anche loro sono giudici, prendono Roma per Toma invece sono scelerate perché diventa una massima e la massima viene utilizzata dall'agenzia prima e da spesso e volentieri alcuni giudici tributari di gradi intermedi dopo e viene utilizzata come massima, quindi non si va a cercare perché la massima, tantomeno se la massima sia giusta o sbagliata. Però quello che è certo e come vedete il grafico, le corte di Cassazione, l'impennata che c'è stata tutte quante a favore del contribuente con invece questa crescita a favore dell'agenzia e perché? Perché ogni tanto l'agenzia ci avrà anche ragione su qualcosa, indubbiamente, ma sono tutte molto limitate e molto sporadiche. Interessanti quelle in ambito penale, perché? Perché anche qua come vedete l'ambito penale è quello dove c'è meno condivisione delle sentenze. Io penso di avere delle sentenze di gradi intermedi nel cassetto che non ho mai correttamente pubblicato perché mi chiedevano esclusivamente pareri e non aveva autorizzazioni per pubblicare fatti particolarmente scabrosi, ma come vedete se Cassazione con una semplice ricerca, la pubblicità regna sovrana e quindi si trovano, 72 Cassazioni a fronte di 14 tutte comprese in primo grado significa che qua ne mancano. È interessante però vedere gli argomenti trattati, lasciamo perdere le piccolezze, lasciamo perdere alcune situazioni nel quale il trust è proprio solo collaterale. Vediamo invece alcune situazioni dove il trust ha a sua volta creato fattispecie di reato e dove? Ci sono state tre provvedimenti in ambito di appropriazione indebita, peraltro mi pregio dire tutti a favore del trust perché comunque il trust che mal si è comportato certamente il filone penale non è appropriazione indebita perché il trust è proprietario quindi non è un appropriarsi di un qualcosa che è già suo. Circonvenzione di incapace anche queste tutte e quattro francamente tranne una tutte le altre tre la circonvenzione di incapace non l'hanno riconosciuta perché anche qua è facile dire ah ma si era incapace di intendere e volere da lì a dimostrarlo di acqua sotto i ponti ne passa. Beh quelle grosse sono quelle che hanno avuto le più numerose, quelle che hanno avuto a che fare con atti e fatti di bancarotta fraudolenta e in qualche modo i trust sono stati tirati dentro per le orecchie in ambito anch'essi di attività di sottrattiva ma il grosso filone sono l'ineesecuzione dolosa al provvedimento del giudice cioè il la sanzione al reato di cui a 388 di codice penale o l'equivalente in ambito tributario cioè la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ed ecco che qua si abbiamo visto sentenze plurime sentenze aumentare le pene di soggetti già comunque compromessi per altre attività beh io ho visto aumentare le pene perché oltre ad aver fatto tutto quello che è fatto bancarotta fraudolenta e tutto quanto è anche tentato di sottrarre tutti il tuo patrimonio tramite un trust e quindi beccati un anno in più o per il 388 per l'articolo 11 del decreto legislativo 2000 del 74 del 2000 qualcosina attenzione si sta facciando anche ai fini riciclaggio dico qualcosina ma qua siamo sempre in reati di riciclaggio legati legati a reati presupposti spesso e volentieri comunque sempre in ambito di bancarietà fraudolenta o di sottrazione al pagamento delle imposte il contenzioso in ambito civile peraltro è quello invece che per alcuni punti di vista può essere più interessante per altri punti di vista dei numeri che sono indicativi solo di un mal utilizzo o di una un utilizzo poco consapevole ma spesso e volentieri anche di tanti tentativi come come vedrete come vedete su 568 provvedimenti di primo grado molti 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 riguardano le trascrizioni ma come vedremo da grafica anzi guardiamolo subito grafico successivo le trascrizioni e quella linea blu ecco che è un problema dei primi anni puoi trascrivere non puoi trascrivere il problema degli anni successivi a puoi trascrivere sì soprattutto post 2006 quando l'entrata in vigore dell'articolo 2645 tero che va bene poi trascrivere ma come puoi trascrivere e vedete che il contenzioso comunque è andato scemando nel corso degli anni il grosso quindi della trascrizione e appannaggio dei primi anni ormai situazione quasi risolta dove 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 i numeri sono impressionanti allora nullità del trust beh nullità del trust riguarda comunque un buon venti per cento del contenzioso totale sinora esaminato un buon venti per cento che guardate lo schema guardate questa linea i primi tempi quasi inesistente perché a parte delle primissime sentenze che dicevano massima il trust è nulo il trust fino a se stesso non è riconoscibile a partire da mi sembra tribunale di bologna 2003 come ha detto signori il trust è perfettamente valido riconoscibile così via tutta l'evoluzione sulla nullità fino a se stessa per alcuni anni si è placata e combinazione tornata in auge quando c'è stata l'impennata invece delle azioni revocatorie ma perché perché siamo tranquillamente abituati a ormai e meno per noi che facciamo contenzioso vedete arrivare una bella citazione dove altrace innanzitutto è riconoscibile altrace innanzitutto nullo perché c'era l'intenzione di frodare i creditori il trust fino a se stesso una gran porcata perché l'ha fatto solo per scappare dai creditori dopodiché nel dubbio comunque revocalò perché è l'impennata questa questa linea perché a fronte dell'impennata che vedete quella gialla sulle revocatorie che sono ormai il 50 per cento veniamo un pochettino il 50 per cento delle azioni oggi alla terre c'è un aumento oggi di cause per nullità perché perché si sono svegliati tardi e le revocatorie li sono precluse per la decadenza quantomeno quinquennale ecco che io personalmente o in questo momento sto difendendo tre trust dove la nullità è invocata perché perché parliamo di trust con conferimenti di 15 16 18 anni fa e beh ma all'epoca insomma il il debitore l'ha fatto apposta per sottrarsi per non pagare le tasse anziché per non pagare i propri creditori sono tutte cause che francamente non so il tempo che trovino e il tempo che troveranno perché c'è cassazione 2019 lapidaria che dice la finalità il voler fare qualcosa con la finalità di non pagare i creditori non è reato non è abuso non è un'attività in qualche modo che non sia meritevole di tutela quindi c'è una causa in particolare che non so se ci sono i colleghi che la seguono questa purtroppo non la seguo io l'avrei voluta seguire io dove c'è l'agenzia dello stato che l'agenzia delle finanze che ha impugnato un atto di 18 anni fa fatto dal papà del ormai decuius del figlio debitore perché la volontà era quella di non pagare le tasse questo l'ha fatto il papà quindi deve pagare che il tuo credito il tuo debitore il figlio che ti frega di quello che vent'anni fa fatto papà certo è che certo è che queste cause ce ne sono e ce ne sono tante ancora in piedi beh che cosa evidenzia a all'attere ed evidentemente delle azioni di nullità e di azioni di revocatore ci sono tante cause relative all'espropriazione dei beni presso il trasti a sequestri a tutela del fondo in traste nei confronti dell'aggressione da parte di terzi creditori e queste sono spesso e volentieri collaterali e sono opposizione all'esecuzione sono cause di ascoltamento negativo del credito dell'ok però se mai il disponente ti doverà dei soldi ma io trasti no il fondo in traste non lo può aggredire quelle che rimangono che ho lasciato per ultime che rimangono in sordina sono comunque 46 provvedimenti di azioni a tutela del fondo vuoi di richiesta di modifiche vuoi di richiesta di istruzioni vuoi nomina di guardiano quelle sappiamo negative sinora vuoi di nomina del trasti quelle sinora sappiamo tutte positive così via che nella linea che viste così in linea comunque evidenziano e sono quelle e quelle verdi evidenziano come ci sia un leitmotiv crescendo in crescita costante in crescita costante cosa significa che va bene le impennate in giallo sulla revocatoria e poi impennate anche perché noterete si accomunano in questo a questo punto i vari gradi di giudizio primo grado appello cassazione il verde che però rimaniamo sempre tranne in pochissimissime volte ce ne saranno due tre che sono fitte in cassazione tutte le altre proprio un grado secco due ogni tanto reclamo ad esempio per il caso del guardiano ma vedete come c'è una trend costante non piatto ma in aumento che significa che comunque la tutela giurisdizionale viene data e garantita non solo più nei confronti dei terzi poveretti danneggiati ma anche nei confronti dei trust ben fatti ben istituiti o comunque in adjuvandum all'attività correlata al traste non solo in demolizione come vedete la violazione della quota di legittima ce ne sono pochissime pochissime come peraltro tutto il nostro diritto francamente non ha grandissima giurisprudenza nell'ambito di violazione di legittima ma perché perché prima o poi piuttosto che andare avanti venti anni in causa prima o poi si trova una quadra difficilmente invece nelle azioni esecutive o seguenti a revocatoria o azioni di nullità quindi tutti questi grafici che cosa ci dicono che il trust ha dato luogo a tantissimo contenzioso ma proprio tanto ma proprio tanto e tutto ciò di nuovo in assenza di una legge organica perché a parte il solito tribunale di belluno che ogni tanto salta fuori con a maltrassa non è riconoscibile di sentenze sui trasta non è riconoscibile di primo grado ce ne sono quattro su mille quattrocento provvedimenti tutti gli altri sono provvedimenti che evidenziano uno come certamente e le revocatorie le azioni nullità sono la prova provata certamente ci sono tanti trust non fatti bene non fatti bene o fatti con intenti meramente elusivi e di fuga ma quanti sono comunque rispetto alla totalità se parliamo di mille e quattrocento di mille e quattrocento provvedimenti beh diamone atto che dividiamo per per tre perché hanno avuto tutte e tre tre gradi di giudizio ce ne sono comunque 500 500 traste non sono pochi quelli quelli che hanno dato adito a provvedimenti giudiziali scusate se in quindici anni perché è vero che sono trent'anni oggi ma come vedete il contenzioso i primi 15 anni era poca roba 15 anni di contenzioso hanno dimostrato comunque l'esistenza in italia di tratti interni per 500 traste e questi sono quelli che sono andati incontenzioso la vera domanda quando ci sarà registro sarà quanti trust ci saranno sapete che questa è la più grossa curiosità che in questo momento del prossimo registro titolare effettivi che evidenzierà necessariamente per l'obbligo di iscrizione quanti trust oggi ci sono in italia e verranno fuori dei numeri obiettivamente impressionanti se già quelli del contenzioso sono impressionanti figuratevi il numero totale che non c'è andato perché io che avrò seguito n trust in contenzioso per n seguiti ce ne sono n al quadrato di seguiti e che non hanno mai dato a dito nessun contenzioso